Il maltempo ha rovinato la tradizionale gita fuori porta del lunedì dell'Angelo, la pioggia alternata a schiarite, il vento e il brusco calo delle temperature hanno indotto in molti a rinunciare la scampagnata al picnic all'aperto. Qui siamo a Fossalto, a pochi chilometri da Campobasso, e l'area verde che solitamente viene presa d'assalto per la scampagnata oggi è desolatamente vuota. Solo due gruppi di irriducibili stanno tentando di organizzare il picnic in presa non facile a causa del vento che rende quasi impossibile accendere il fuoco sul quale fare l'arrosto. Poche le auto che circolano lungo le strade fatta eccezione per la Bifernina dove il traffico verso il mare è sostenuto. C'è chi si ferma per acquistare prodotti della campagna. Il giorno di Pasquetta si viene a fare acquisti. Va bene, le cose diciamo così della campagna sono sempre le benvenute. Oggi il tempo non è granché, come trascorrerete questa giornata? Niente, ci siamo fatti una passeggiata con mia moglie a vedere qualche posticino nostro nelle nostre vicinanze e poi non si sa se andiamo in qualche agrotirismo. Signora si fa acquisti anche oggi? Sì, va bene, giusto le fave, stiamo con gli amici e quindi prendiamo un po' di fave. Senta ma oggi come trascorrerà la giornata? Andremo al mare a Campomarino sperando che il tempo ci accompagni perché faremo tipo una scampagnata per cui confidiamo nelle previsioni, speriamo che nel pomeriggio cambiano un po'. Non si rinuncia? No, no, non si rinuncia assolutamente alla Pasquetta. A Campobasso poca la gente in giro per le vie del centro, preso invece letteralmente d'assalto il piazzale antistante e il castello Monforte. Molti hanno sfidato il freddo per fare una passeggiata e visitare l'antico maniero che domina la città. E per pranzo, al ristorante o perché no a casa, magari riciclando quello che è avanzato dal ricco menù di Pasqua.